Duro colpo alla camorra, la DIA di Napoli ha eseguito un sequestro da 5 milioni di euro nei confronti di Giovanni Fabrocino, figlio del capo clan Mario, attualmente detenuto in regime del 41 bis. Le indagini hanno consentito di far emergere gli interessi economici del clan e dei suoi affiliati. Ad ingrossare il giro d'affari della Cosca c'era la vendita del calcestruzzo imposta tra il 2007 e il 2012 attraverso l'azienda La Fontana e poi attraverso due imprese sequestrate oggi, la Gifra e la GF. Per gli inquirenti la produzione di calcestruzzo è servita ad occultare le estorsioni che avvenivano obbligando le aziende edili a far riferimento ad un listino prezzi maggiorato rispetto a quello praticato da imprese dello stesso settore. In questo modo gli imprenditori erano costretti ad acquistare dalla Gifra anche se sul mercato avrebbero potuto trovare condizioni più vantaggiose. Il provvedimento di oggi emesso dal Tribunale di Napoli rappresenta la prosecuzione delle indagini del marzo scorso e che hanno permesso di scoprire non solo l'operatività del clan ma anche gli interessi economici degli affiliati con specifico riferimento alla gestione di attività commerciali e imprenditoriali riconducibili al vertice dell'organizzazione criminale. In particolare dalle indagini della DIA è emerso che Giovanni Fabrucino è il titolare occulto e il gestore di fatto della Gifra operante nella fornitura del calcestruzzo e della GF operante nel settore florovivaistico. All'esito degli accertamenti patrimoniali effettuati il Tribunale di Napoli ha emesso un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca di quote sociali, beni strumentali e relative pertinenze delle imprese. Le società a cui la direzione investigativa ha posto i sigilli sono la Gifra di Saviano, la RAF di Scafati e la GF di San Giuseppe Vesuviano.